Un livro d'oro alla carriera da parte di un festival del cinema europeo che porta in Italia molti dei film che normalmente noi non potremmo vedere. Ecco come lo considera questo premio? Sono molto fiero, anche se sono un po' anche irrequieto, perché per la prima volta ho ricevuto un premio per la carriera quando aveva 45 anni, allora era abbastanza presto. Da questo tempo mi è successo già parecchie volte, però ogni volta penso che questo è un invito per ritirarsi e come ho scritto un libro che si chiamava in italiano Tempo per morire, forse questo è un invito di smettere. Invece io voglio ancora fare parecchi film, io ho molti progetti, molte iniziative, finché le forze fisiche mi possono servire, voglio ancora andare avanti e non pensare che la mia carriera è già conclusa. Ecco, cosa vuol dire avere coraggio nel cinema oggi? Avere coraggio è non essere suicidario, perché è molto facile mettersi al margine e perdere il contatto con il pubblico, con tutte queste strutture che ci portano al pubblico. In nostra epoca l'attenzione del pubblico ha un valore molto particolare, perché dobbiamo combattere per essere notati, se no siamo con questi mezzi di comunicazione oggi, con tutta questa elettronica, siamo persi in un oceano delle informazioni, dei impulsi e finalmente non esistiamo. Per esistere, per essere visto e sentito e ascoltato, questo è un grande privilegio e anche una grande battaglia. Ecco, per essere sempre più vicino a quella che è la realtà e quindi anche alla contraddizione che è insita nell'uomo e nella donna, il cinema ora, oggi che ruolo ha in Europa? Il cinema oggi non è così importante in cinema europeo, sfortunatamente. Non ha una influenza così forte come aveva vent'anni o trent'anni fa, sfortunatamente. Oggi è il cinema americano chi domina la scena europea. E questo è un gran peccato, perché Europa è diversa e Europa ha qualcosa di diverso da dire, anche un'altra mentalità. E spero che arriverà una nuova ondata del grande cinema europeo, come una volta faceva Fellini, Antonioni, Bergman, Bionuel e tanti altri. C'è un tema che vorrebbe affrontare prima o poi? Sì, sto preparando il prossimo film e questo è il tema che mi interessa di più. Sarà un film sottotitolato Etero, forse coprodotto anche con l'Italia. È una storia del Fausto, cioè un Fausto nella mia interpretazione. Fausto che non crede nell'esistenza dell'anima, però crede nella scienza. Invece la scienza, quando sostituisce la fede, non è valida. Grazie a tutti.